Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, io sono Jerem e oggi siamo tornati su Pokemon Go Inizio subito con dirvi e mi scuso che non vi ho avuto, non vi caricherò i due video che ho registrato ieri accanto a Gerona Perché l'audio faceva schifo, non mi si rientriva, quindi vi faccio vedere solo brevemente cosa ho fatto Poco fa ho fatto volvere anche dei Pokemon, vabbè Kakuna, Pidgeot, niente Eccans l'ho trovato in sacco, e poco fa in un video che però vabbè è venuto male E ho fatto un Arbok al 997 A Caltagero l'ho trovato Pikachu al 160 con gli attacchi che fanno schifo però PIKACHU Molto bello Sandlash l'ho trovato ieri Mi sono fatto un idolino E un idolino, un gol batte all'888 mi sono fatto poco fa E vabbè ho trovato del mio, vabbè ho trovato, vabbè Ma anche un sacco di Goalite Che è molto presto, infatti molto presto avremo un Arcanine E ieri a Caltagirone c'era Arcanine nei dintorni E poi vabbè ho trovato un sacco di Geodude Mi sono fatto due Graveler Di cui uno poco fa con l'887 E mi sono fatto un Kingler al 1096 che è attualmente il Pokémon con più punti di lotta che ho Ho trovato Rion E degli Eevee E poi basta Quindi ragazzi Vi ho detto puramente cosa ho trovato Purtroppo mi dispiace molto Che non vi potrò caricare il video Perché è brutto, non mi va Di metterlo Quindi ragazzi per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo Ciao